Salve a tutti giovani droidi e bentornati sul canale dell'insolenza di R2D2. Io sono sempre Gaetano e oggi voglio portarvi un ricco approfondimento in cui ripercorro quelle che sono le tappe più importanti del piano più ambizioso e complesso dell'imperatore Palpatine, e cioè la ricerca dell'immortalità. E soprattutto dopo le grandi rivelazioni, o meglio le conferme, della premiere di The Bad Batch 3, possiamo delineare un quadro un po' più completo su questa vastissima operazione, che si è svolta nell'arco di decenni e ha avuto tantissime implicazioni differenti, delle quali come sempre faccio chiarezza dopo la sigla. Sono passati quasi cinque anni da quel famoso somehow Palpatine returned. Una frase che aveva fatto arrabbiare moltissimi fan di Star Wars, e che nel corso del tempo è diventato inesorabilmente un meme. Ma vi posso assicurare che nel corso di questi quasi cinque anni da quella semplice frase è nata una lore davvero ricchissima, che copre un periodo di tempo di oltre cinquant'anni, e che pian piano sta ricostruendo all'interno del canone di Star Wars tutto quello che è stato l'iter percorso dall'imperatore Palpatine per cercare di raggiungere l'immortalità, e soprattutto che ha portato al suo ritorno in episodio 9. Quindi tralasciando quello che era l'ignaro punto di vista di Podemeron, e soprattutto tralasciando tutte quelle che possono essere le critiche nei confronti di questa scelta narrativa in episodio 9, e cioè di trattare la questione in maniera semplice e confusionaria, andiamo a inoltrarci all'interno di questa affascinante tematica. Ma prima di farlo voglio ringraziare di cuore come sempre tutti coloro che si sono abbonati al canale, e se anche voi volete sostenermi tramite abbonamento vi lascio in descrizione un link utile con tutte le informazioni. Allo stesso tempo se magari non siete iscritti al canale e vi siete imbattuti in questo video, o in qualche altro video che vi è piaciuto, vi invito ad iscrivervi e ad attivare la campanellina delle notifiche per non perdervi nessun altro approfondimento. Ma è arrivato il momento di inoltrarci all'interno di questa loro scura, che si divide in due ambiti particolari. Uno un po' più mistico, e un altro che invece è sia mistico che prettamente scientifico. Partiamo tra virgolette da quelli che possiamo considerare i risvolti mistici, che si rifanno a quello che è il potere del trasferimento dell'essenza. Se ben ricordate vi ho già parlato di questa questione all'interno di un altro video, che tra l'altro è uno dei più visti del canale, e per questo vi ringrazio, in cui approfondivo proprio il potere che Palpatine aveva utilizzato per poter sopravvivere, e cioè come è stato definito nel canone il transfert, ma che però era un potere già conosciuto all'interno delle opere Legends. Il trasferimento dell'essenza infatti è stato citato per la prima volta all'interno della mitica serie a fumetti Dark Empire, che è arrivata in Italia con i titoli di Il Lato Oscuro della Forza per il primo volume, La Vendetta dell'Imperatore per il secondo volume e La Fine dell'Impero per il terzo volume. All'interno di queste opere Legends avveniva proprio il ritorno dell'imperatore, in una maniera più o meno simile a quanto accaduto nel canone, ma ci sono delle grosse differenze delle quali vi parlerò successivamente. Senza dilungarmi troppo sull'argomento, visto che comunque ve ne ho parlato come detto all'interno di un altro video, nelle opere Legends il trasferimento dell'essenza è stato poi citato in tantissimi altri prodotti, e rappresenta praticamente il trasferimento della coscienza del Sith all'interno di un altro corpo. Si tratta quindi ovviamente di un potere del lato oscuro, tramite il quale il Sith poteva trasferire la propria coscienza non solo in un altro corpo, ma anche all'interno di oggetti inanimati e luoghi. Un qualcosa che poi abbiamo visto anche in altre opere fondamentali. Il trasferimento dell'essenza ovviamente aveva come scopo ultimo quello di perpetrare la propria coscienza nei secoli, e quindi di rendere praticamente il Sith immortale, considerando il fatto che c'era la possibilità di passare letteralmente da un corpo all'altro. Ma ovviamente si trattava di un potere non solo molto complesso e segreto, ma soprattutto pericoloso. Questo perché poteva accadere che il trasferimento fosse attuato in maniera sbagliata. C'era infatti un rituale molto preciso che si doveva portare a compimento. E soprattutto era possibile che la coscienza di colui che veniva posseduto combattesse contro quella che era la coscienza che voleva possederlo, e magari potesse vincere. E in questi due casi la coscienza del Sith che aveva attaccato quel corpo finiva praticamente in un caos fatto di nulla. E questa dinamica ci viene brillantemente narrata all'interno dell'ultimo romanzo della trilogia Legends di Darth Bane, La dinastia del male, dove il signore dei Sith che aveva istituito la regola dei due tenta il trasferimento dell'essenza nei confronti della sua apprendista Darth Zanna, che però dimostra di avere una volontà di ferro e una coscienza fortissima. E infatti riesce ad assorbire la personalità del suo maestro e si dimostra quindi degna di portare avanti l'eredità della regola dei due, istituita proprio da Bane. Nonostante il fatto che il trasferimento dell'essenza non avesse funzionato e quindi la coscienza di Darth Bane fosse scomparsa, in lei comunque albergava un po' della personalità del suo maestro. Per ovviare quindi a questi problemi che potevano avvenire durante il procedimento, molti signori dei Sith, vi parlo sempre delle opere Legends e in questo caso soprattutto appunto di Palpatine, avevano escogitato un escamotage, e cioè la creazione di corpi clonati di loro stessi che fossero praticamente dei gusci vuoti da conservare e poi da riempire successivamente quando il corpo originale si sarebbe deteriorato e fosse stato necessario trasferirsi all'interno di un altro corpo. E in questo caso quindi, considerando che si trattava appunto di gusci vuoti, non ci sarebbe stata da parte loro nessuna opposizione, come era accaduto ad esempio nel caso di Darth Zanna. E proprio qui arriviamo a quella che è la più grande differenza fra le opere Legends e le opere canoniche. Infatti all'interno del canone trasferire la propria coscienza all'interno di un corpo clonato oppure di uno Strandcast, poi vi spiegherò che cos'è, era molto più complesso di come avveniva all'interno delle opere Legends, perché questi corpi clonati e questi Strandcast nella maggior parte dei casi erano soggetti a un decadimento, a un invecchiamento e addirittura a una completa distruzione, che era portata dal fatto che lo spirito di colui che trasferiva la propria coscienza, in questo caso ovviamente sempre l'imperatore Palpatine, era troppo potente per quel corpo clonato oppure per quello Strandcast. Il problema quindi stava nell'instabilità di questi corpi clonati o di questi Strandcast, che non sarebbero praticamente riusciti a sostenere lo spirito potente nel lato oscuro dell'imperatore Palpatine senza essere soggetti a decadimento, deformità fisica e infine anche morte. E alla fine effettivamente è proprio ciò che è successo a Palpatine, perché quando fu costretto ad utilizzare il trasferimento dell'essenza non era ancora stato creato un corpo che avrebbe sopportato perfettamente il suo enorme spirito e quindi era stato costretto a trasferirsi in un corpo clonato che però era soggetto ad un forte deterioramento. Ed è questo il motivo per il quale, come abbiamo visto in episodio 9, egli era praticamente costantemente attaccato a dei macchinari e aveva vissuto in questo modo per 30 anni su Exegol. Sempre all'interno delle opere canoniche, affinché il transfert potesse avere esito positivo, c'era bisogno di due variabili particolari. La prima era la presenza di una potente sensibilità alla forza nel corpo clonato, mentre la seconda era la possibilità che il corpo ospite fosse in qualche modo un corpo che aveva una connessione ereditaria con l'originale. E come avrete capito, Palpatine aveva cercato di intraprendere entrambe le strade, ma ovviamente in due momenti ben distinti e separati. Infatti egli avrebbe intrapreso la seconda strada solamente dopo essere venuto a conoscenza della nascita di Ray, come vi dirò successivamente, mentre all'inizio aveva provato la prima strada per rendere un corpo clonato degno di contenere il suo spirito, e cioè aveva cercato in tutti i modi di instillare la forza all'interno di un corpo clonato. E qui ci stiamo avvicinando sempre di più a quello che è stato l'iter che conosciamo all'interno delle opere canoniche, sia riguardante quello che abbiamo visto in Episodio 9 e nelle opere connesse, e sia riguardante quello che è il nuovissimo Project Necromancer, che vi ricordo pronuncio sempre in inglese per non far svalvolare l'algoritmo. Progetto del quale abbiamo avuto importanti conferme all'interno della terza stagione di The Bad Batch, ma procediamo per gradi. Prima di partire dagli albori, infatti, quindi da quelle che sono state le ricerche del Dr. Emlock, voglio concentrarmi prima su quelli che furono gli studi dei Sith Eternal. Infatti, come sappiamo da Episodio 9, come sappiamo dalle opere connesse, soprattutto ad esempio il romanzo Shadow of the Sith, o anche la serie regolare a fumetti e Darth Vader 2020, Sidious aveva affidato ai cultisti Sith Eternal il compito di creare questo corpo perfetto che avrebbe potuto fare da contenitore al suo spirito senza deteriorarsi. E questi ultimi per farlo avevano utilizzato non solo la stregoneria Sith, ma anche dei complessi processi di clonazione, come lo strandcasting, appunto, e come la clonazione caminoana modificata, che sicuramente deriverà da ciò che stavano facendo il Dr. Emlock e Nalase alla struttura del Monte Tantis. Ma come vi dicevo ci arriverò tra pochissimo. È interessante notare che gli esperimenti di strandcasting sono avvenuti molto prima delle vicende di Episodio 9, e anche molto prima rispetto alla caduta dell'Impero Galattico. Infatti, i primi risultati tra virgolette positivi di strandcasting avvennero nel 12 BBY. Per darvi un riferimento temporale siamo a circa sei anni dopo gli eventi di The Bad Batch 3. Periodo in cui su Hexegol furono creati due strandcast, Snoke e Dayton, che inizialmente venne definito come l'abominio, e che come vi ho raccontato all'interno di un altro video non è altri che il padre di Ray. Anche di questo personaggio e degli strandcast trovate quindi in questo video un approfondimento. E parlandone in breve possiamo dire che gli strandcast sono dei costrutti artificiali che non sono dei cloni simili al 100% all'originale, ma che hanno comunque il suo patrimonio genetico combinato anche a materiale genetico esterno. E si tratta quindi di costrutti che hanno una certa autonomia. Nonostante gli sforzi dei Sith Eternal però, nessuno di questi due strandcast, quindi né Snoke e né Dayton, erano praticamente all'altezza di contenere lo spirito di Palpatine, perché i due rappresentavano a modo loro un fallimento. Snoke infatti era potente nella forza, ma era debole fisicamente, e infatti il suo fisico era soggetto a quel deterioramento di cui vi parlavo prima, e perciò non avrebbe potuto comunque contenere lo spirito di Palpatine. Ma nonostante questo, l'imperatore successivamente, a quello che sarebbe accaduto poi in episodio 6 con la sua, tra virgolette, di partita, avrebbe scelto proprio la figura di Snoke come rappresentante del primo ordine. Ovviamente dopo tutte le vicende legate ai romanzi di Aftermath e alla figura di Reslowen, della quale dobbiamo ancora conoscere il destino. Ma come sappiamo, ad un certo punto del post-Endor, Snoke era diventato il leader supremo del primo ordine, ma formalmente era comunque un burattino nelle mani di Palpatine, pur avendo una certa autonomia decisionale, tra virgolette. E Snoke era stato creato poco prima di Dayton, e ciò significa che quest'ultimo era, sotto certi punti di vista, uno Strandcast leggermente più avanzato. Infatti Dayton, il futuro padre di Ray, era uno Strandcast totalmente in salute, ma aveva un altro grossissimo problema, e cioè non era sensibile alla forza. O meglio, all'interno del suo corpo creato artificialmente c'erano troppi pochi Midichlorian, e quindi pur essendo un costrutto in salute con il patrimonio genetico di Palpatine, in questo caso purtroppo i Midichlorian erano decaduti, e questo sarà un argomento importante per quanto vi parlerò del Project Necromancer e soprattutto di tutte le vicende che stiamo vedendo all'interno di The Bad Batch 3. Diciamo che l'imperatore Palpatine non prese affatto bene la nascita di Dayton, che infatti, come vi dicevo, battezzò l'abominio, e praticamente lo ritenne per tutto il corso della sua vita un rifiuto, un errore. Ma comunque lo tenne in vita, permettendogli di sopravvivere, come ho avuto modo di raccontarvi sempre all'interno del video dedicato a questo personaggio, perché aveva intuito che tramite il suo corpo sano magari sarebbe potuta nascere una progenie sia sana e sia soprattutto sensibile alla forza. E infatti, come poi vedremo in episodio 9 con la nascita di Ray, l'imperatore aveva intrapreso la volontà di volersi impossessare del corpo di sua nipote, tra virgolette, perché come vi ho detto inizialmente la linea ereditaria era un buon modo affinché il trasferimento dell'essenza potesse funzionare bene. E Ray in questo caso non solo rappresentava una linea diretta ereditaria con Palpatine, ma soprattutto era molto potente nella forza. E dopo avervi raccontato quelli che sono stati i piani di Palpatine, diciamo così, in corso d'opera, parliamo invece di quelli che sono stati i suoi piani iniziali, affinché il trasferimento dell'essenza potesse andare a buon fine. E in merito a questo mi rifaccio a quella che era la prima prerogativa di cui vi ho parlato, e cioè il fatto che i cloni fossero potenti nella forza. E questa, come vi avevo accennato nel canone, è davvero un'aberrazione, perché nessuno era mai riuscito a replicare i Midi Glorian. In pratica, all'interno delle opere canoniche e nei prodotti che abbiamo visto fino ad ora, sembra che la forza si opponga a questa aberrazione, e cioè al fatto di poter essere tra virgolette replicata all'interno di un corpo clonato, anche se come sappiamo i Midi Glorian sono solo comunque uno strumento, anche se naturale, in cui la forza scorre. Non rappresentano quindi la forza stessa. Sta di fatto che replicare il valore M, e cioè proprio i Midi Glorian, era il progetto che Palpatine intendeva portare avanti per primo. E infatti all'interno della terza stagione di The Bad Batch abbiamo avuto finalmente la conferma del fatto che ciò a cui sta lavorando il dottor Hemlock insieme a Nalase è il Project Necromancer, che come ricorderete era stato già citato all'interno del settimo episodio della terza stagione di The Bad Batch, durante il Consiglio Ombra, dove praticamente Pallion dice che il ritorno di Tron avrebbe dato a Brandolax il tempo di completare proprio il Project Necromancer. E questo ci fa capire una cosa importantissima, e cioè che nonostante ciò che abbiamo visto nel terzo episodio in merito ad Omega, il Project Necromancer non sarebbe mai andato tra virgolette a buon fine, anche perché come sappiamo poi sei anni dopo si stava ancora sperimentando con gli Strandcast. E quindi circa 26-27 anni dopo gli eventi di The Bad Batch 3, in particolare nella terza stagione di The Mandalorian il Project Necromancer stava andando ancora avanti, e in questo caso veniva portato avanti dal primo ordine rappresentato appunto da Brandolax e come vi dicevo da Ray Sloan. Ma è molto probabile che sia il primo ordine e sia soprattutto la divisione scienza avanzata stessero lavorando in concomitanza con i Sith Eternal, e anche in questo senso abbiamo un indizio importante all'interno della terza stagione di The Bad Batch, poiché nel cavo segreto dove si tenevano le cavie degli esperimenti, possiamo vedere sul pavimento delle barre rosse, che uniscono tutte queste particolari vasche, e che sono caratterizzate dalla presenza di frasi in Urquitat, che è proprio l'antica lingua runica dei Sith. Questo, come vi dicevo, ci fa capire che già nel 18 BBY, quando è partito formalmente il Project Necromancer, i Sith Eternal stessero collaborando in qualche modo con la scienza, perché come vi ho ribadito all'interno di tutto il video, questo enorme progetto di immortalità da parte di Palpatine era formato da tantissime fasi differenti, e quindi, oltre alla stregoneria e alla sapienza dei Sith Eternal, erano unite anche tutte quelle che erano le innovazioni sulla clonazione, sia per quanto riguarda la nascita degli Strandcast, e sia per quanto riguarda le modifiche della clonazione caminoana. E il fatto che Suttantis venisse portato avanti questo progetto ve l'avevo già svelato dalla stagione precedente. Non è un caso, infatti, che il dottor Emlock nel finale della seconda stagione si rivolga nella sé parlandole proprio di questo progetto, anche se ovviamente non ci era stato rivelato. Ma è interessante notare che la caminoana aveva risposto che ciò che chiedeva all'imperatore era impossibile, e in questo caso tramite la premiere della terza stagione abbiamo scoperto che ciò che Palpatine chiedeva era di replicare il valore M all'interno dei corpi clonati. È probabile quindi che all'interno delle vasche che abbiamo visto nel terzo episodio della terza stagione di The Bad Batch ci siano esseri senzienti o semisenzienti, sensibili alla forza e con un'alta concentrazione di valore M, e allo stesso tempo magari al fianco ci siano dei loro cloni. Vi sarete infatti chiesti perché venissero effettuati dei prelievi proprio sui cloni, come anche su Omega, perché si stava cercando di creare una quadra fra quello che era un corpo normale, tra virgolette, e naturale, e quello che era un corpo clonato. Infatti quando scopriamo la compatibilità del campione di sangue di Omega ci viene detto espressamente che questo campione di sangue era riuscito a trasferire la giusta quantità di valore M senza diminuzione rispetto agli esemplari. A mio parere infatti l'importanza non risiede nel fatto che Omega sia più sensibile alla forza rispetto agli altri cloni, ma soprattutto nel fatto che all'interno del suo patrimonio genetico per qualche motivo c'era un elemento che permetteva al valore M di non decadere, perché era questo il cruccio insuperabile dell'imperatore e del dottor Hemlock, il fatto che i risultati non davano i valori giusti perché all'interno dei corpi clonati il valore M decadeva precipitosamente. Ed è per questo che ipotizzo che il dottor Hemlock non riuscirà mai più a catturare Omega, perché se così fosse probabilmente sarebbe riuscito non solo a replicare il valore M ma anche ad aumentarlo. Perciò tramite il patrimonio genetico di Omega avrebbero potuto creare una copia di Palpatine con lo stesso numero o addirittura un numero superiore di midichlorian rispetto a quelli dell'imperatore, per potergli dare addirittura non solo un corpo potente in salute, ma addirittura più forte di quello naturale. Come sappiamo però questo non è accaduto e ciò ci permette di ipotizzare con tutta probabilità che Omega riuscirà sempre a sfuggire all'impero. E quindi ora può prefigurarsi un ITER un po' più preciso rispetto al passato. Partiamo quindi dal 18 BBY, in cui cominciano gli esperimenti di clonazione su Tantis e in cui si cercano di modificare quelle che sono le ricerche caminoane, affinché si potesse instillare all'interno di questi corpi clonati il valore M artificiale, quindi instillare dei midichlorian artificiali all'interno di questi corpi. Tramite i dati canonici che abbiamo fino a questo momento, come vi dicevo non solo tramite il romanzo Shadow of the Sith, ma anche la guida ai segreti dei Sith, passiamo poi al 12 BBY, dove sono stati creati circa sei anni dopo gli eventi di Tantis, Snook e Detan su Exegol. Come sappiamo, nonostante la tecnologia fosse andata avanti e fosse nata la clonazione degli Strandcast, quindi la creazione di questi costrutti che sono, diciamo così, dei cloni 2.0, non si era ancora arrivati a un punto tale da poter instillare i midichlorian e quindi rendere questi corpi o sensibili alla forza oppure sani. Perché appunto in Snook si era riuscito a instillare una certa sensibilità alla forza e comunque abbiamo visto che era un force user abbastanza potente, ma il suo corpo era in totale decadimento, mentre Detan, che aveva un corpo sano, non aveva abbastanza sensibilità alla forza, come poi avrebbe avuto invece sua figlia. Questo ci fa capire che nel corso di questi sei anni gli esperimenti sono passati da Tantis a Exegol e infatti ci spostiamo poi ad un'altra importante opera, che come vi dicevo è la serie a fumetti Darth Vader 2020, in cui in un periodo ambientato tra episodio 5 ed episodio 6, quindi tra il 3 e il 4 e i B.Y., possiamo vedere moltissimi indizi di quello che poi sarà il piano finale di Palpatine in merito al ritorno, tra virgolette, dell'impero e soprattutto possiamo vedere degli indizi in merito alla clonazione, alla creazione degli Strandcast, e soprattutto possiamo anche vedere i famigerati Sith Eternal, che in questo caso se la vedono con Darth Vader, e questo è l'ennesimo esempio del fatto che sempre nel pieno del periodo imperiale queste sperimentazioni stavano andando avanti. Abbiamo poi come altro evento importante quello della sconfitta dell'imperatore, avvenuta proprio nel 4 e i B.Y. in episodio 6, in cui Palpatine era stato costretto ad applicare il trasferimento dell'essenza, ma suo malgrado aveva dovuto occupare un corpo non ancora pronto, quindi un corpo che si deteriorava, e perciò, pensate, per 30 anni era dovuto rimanere in quelle condizioni, e quindi per i 30 anni successivi non si era comunque trovato un rimedio nella creazione di un corpo che fosse in salute e soprattutto che fosse abbastanza forte da poter contenere il suo spirito. E perciò arriviamo agli eventi del 35 e i B.Y., in cui si snodano, come sappiamo, tutte le vicende di episodio 9. E ho voluto concludere questa disamina con i riferimenti temporali in ordine cronologico per farvi capire quanto tempo era passato dall'inizio delle prime fasi di questo piano alla sua, tra virgolette, riuscita finale, e cioè ben 53 anni. 53 anni in cui dal 18 B.Y. al 35 e i B.Y. Palpatine aveva cercato in tutti i modi di poter trovare un rimedio consono per evitare la morte, e quindi per perpetrare l'immortalità. Ed è stata poi una fatalità che durante gli eventi di episodio 9 egli abbia trovato, in rei e in ben solo, una diade, e tramite quest'ultima si è riuscita a rigenerare il proprio corpo. Però il mio obiettivo ovviamente era quello di parlarvi del piano iniziale di Palpatine, che come possiamo vedere, nonostante i tantissimi sforzi di tantissime persone differenti, tra scienziati, cultisti Sith, eccetera, non era mai riuscito a portare a compimento. Sicuramente già la terza stagione di The Bad Batch ci darà moltissimi dettagli in più in merito a questo enorme progetto. Ma comunque, come potete vedere, rispetto a quasi cinque anni fa, la lore che gira intorno a quello che è stato uno dei piani più ambiziosi di Palpatine si fa sempre più ricca ed interessante. E sicuramente si arricchirà di tantissimi dettagli anche nelle opere dei prossimi anni. Ditemi nei commenti cosa ne pensate della questione e se questo video vi è piaciuto lasciate un like, iscrivetevi al canale e soprattutto attivate la campanellina delle notifiche per rimanere sempre aggiornati sulle prossime uscite. Io vi saluto e che l'insolenza sia con voi!